Sarà la Valle d'Itria ad ospitare il primo festival culturale nazionale sulla legalità dal 3 al 6 maggio. Legalitria è organizzato da Radici Future in collaborazione con Regione Puglia, città metropolitana di Bari e i comuni di Locorotondo e Fasano, con la partecipazione di imprese private. L'obiettivo è agevolare la cultura della legalità perché la legalità conviene, nutre l'economia e il rispetto delle regole. Riunire delle bellissime testimonianze intorno alla lettura. Testimonianze di che cosa? Testimonianze che usare le regole conviene. Conviene a tutti, conviene ad una terra che vuole puntare sul turismo, sull'economia, perché se non si rispettano le regole, si buttano i rifiuti per strada o si costruisce abusivamente, le persone si allontanano, non vengono da noi. Rispettare le regole conviene e la legalità conviene perché le città sono più belle con la legalità, perché sono più accoglienti e quindi è bello che la Valle d'Itria si caratterizzi per questo processo contro lo stereotipo della illegalità in Puglia. Perché dico contro lo stereotipo dell'illegalità? Perché certamente ci sono dei virus che attagliano il nostro territorio, però si sono realizzati anche gli anticorpi, sono venuti fuori. E quegli anticorpi sono quelli di una cittadinanza attiva che attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e di tanti testimoni che con la vita quotidiana dimostrano che vivere secondo le regole è positivo, tutto questo veramente ci dà lo spirito per una Puglia assolutamente straordinaria e accogliente. 26 ospiti in 4 giorni, 5 scuole coinvolte, presentazioni di libri, tavole rotonde e la premiazione di giornalisti che si sono distinti con le loro inchieste. È un festival diviso su 4 giorni dal 3 al 6 di maggio che parte con letture di libri all'interno delle scuole, saranno presentati gli autori, autori di livello nazionale che si sono interessati nel tema della legalità e della criminalità organizzata, nel pomeriggio seminari a carattere tematico prevalentemente centrati sul rapporto tra cultura della legalità e cultura dell'accoglienza e del turismo, nonché cultura in termini di festival, per poi chiudere il 6 la domenica mattina con un momento di gala durante il quale saranno assegnati 4 premi a figure, altrettanti figure del giornalismo d'inchiesta e del giornalismo antimafia dedicati prevalentemente alle vittime pugliesi di mafia e innocenti. Sarà un festival itinerante sui due comuni, Locorotondo e Fasano, che hanno subito aderito all'iniziativa, anche perché noi volevamo includere all'interno di questo bellissimo comprensorio la possibilità di definire territorialmente un festival. Sarà un festival itinerante nelle scuole, perché le scuole dei due comuni e le scuole superiori saranno ovviamente coinvolte, perché il festival entrerà nelle scuole, cosa abbastanza rara in Puglia, è itinerante anche sui temi, perché non sarà centrato soltanto sul tema della mafia, anzi, ma prevalentemente sulla conoscenza dei diversi dispositivi con i quali si afferma la criminalità organizzata, per poi contrastare. A questo proposito un ragazzo, un ragazzo delle scuole superiori di Fasano, che è domiciliare, ha letto uno dei libri, parteciperò al progetto, ha chiesto di leggere tutto, quindi vuole approfondire oggettivamente la conoscenza del fenomeno per poter reagire anche personalmente, questo è già un successo per il festival. Hanno aderito anche delle imprese private a questo festival? Sì, hanno aderito imprese private, hanno aderito la BCC, lo Corotondo, hanno aderito subito, quindi, come dire, loro hanno condiviso con noi la costruzione del programma innanzitutto e del tema. Ed è stata una sorpresa, non ce l'aspettavamo, perché vuol dire che esiste un tessuto sano di imprese che vuol fare della legalità un momento di marketing territoriale.